Sono in sette al via, scuderia 2-3, favori per Rolex Denny, riottoso alla prima qui al sud. Rolex che parte un po' arretrato in mano a VP, concede diversi metri ma si avvia regolarmente. Gli altri che vanno a staccare al centro dello schieramento, Rino Jet alle prese con Romerus, Rino che rientra a Romerus. Poi c'è Regina Dete che prova ad infilarsi ma Romerus scende e Regina rimane di fuori per l'inserimento di Rhapsody Lux. 14,4 per Rino Jet su Romerus, Rhapsody poi Regina, precedere Raymond, Rolex Denny che si è ricongiunto e punta in avanti. Si va a completare la prima curva con Rino Jet che riduce sensibilmente il ritmo di 400 in 31. Rolex Denny riguadagna terreno all'esterno, ora gira il frustino, VP prova ad avvicinare il battistrada. Rolex si porta su Rino Jet che sembra per il momento intenzionato a tenerlo, insiste però Rolex, 46-600, passa di forza anche con la condiscendenza però di Rino. Rolex, Rino, poi Romerus a precedere Rhapsody Lux, Regina, Raymond chiude il numero 2 di Reactor. 1,2 gli 800 di Rolex Denny, su Rino Jet e Romerus, tutti in fine indiana con Regina quinta allo steccato che accenna a mettere la testa di fuori ma poi sulla retta di fronte si va con Rolex su Rino e Romerus il chilometro in 18,1. 16 per il Varendi VP che guida, su Rino che lo fila, Romerus è terzo, Rhapsody quarta, Regina infilata da Raymond. Si va ad attaccare la curva finale, Rolex che accelera, prende 1,5 al Rino Jet. Quindi c'è 4 la frazione, 1,33 e 3,3 quarti, Rolex su Rino e Romerus che cercano di non perdere il contatto con Romerus che si affaccia ai fianchi di Rino Jet, mentre Rolex ancora ha una lunghezza di vantaggio. Entra addirittura Rolex da leader, finisce bene Romerus insieme a Rino Jet, Rolex però sa ripartire da Romerus che ha sopravanzato Rino. Rolex in vantaggio, Romerus che riguadagna qualcosa, ma Rolex la porta a casa ancora con sicurezza su Romerus al terzo Rino Jet. 2,3, anche un filo scarsi che valgono ovviamente molto meno per Rolex Deni, 1,17,1 l'ufficiale, il Varen e Alba Getty, colori della Daemon, VP dell'Annunziata per il training e la guida con questo non facile Varen che aveva avuto problemi dietro la macchina al garigliano, quest'oggi VP l'ha presa molto tranquilla, ha preferito concedere un buoni 30-40 metri agli avversari, è riuscito comunque a sfilare su Rino Jet e a portarla a casa con sicurezza su un valido Romerus che finisce bene nonostante la chiusa violenta al terzo Rino Jet. Quindi i numeri dicono 5, 6, 4, si parte nel segno di VP. e Rolex Deni Grazie.